13 febbraio 1913. Nasce a Genova Giuseppe Dossetti, partigiano, giurista, parlamentare e sacerdote, esponente della sinistra democristiana che avrà una parte di rilievo nell'Assemblea Costituente. Durante la Resistenza, Dossetti diventa presidente del CLN di Reggio Emilia. Nel 1945 è vice segretario della DC, ma dopo un anno si dimette per i dissidi con De Gasperi. Dossetti ha un ruolo importante nel dibattito sull'articolo 7 della Costituzione, che regola i rapporti fra Stato e Chiesa Cattolica. Si ritira dall'attività politica nazionale nel 1951 e viene ordinato sacerdote nel 1958. Sempre negli anni 50 fonda la comunità religiosa piccola famiglia dell'Annunziata e ne resta alla guida fino al 1991. Dopo molti anni di silenzio, a metà degli anni 90, dà vita ai comitati in difesa della Costituzione per risortare i cattolici a tornare alla politica. Muore nel 1996.